ben trovati da nico schiodetto a tutti gli amici di primo canale condizioni meteo per la giornata di domenica quando ritroveremo ancora tanta variabilità sulla liguria ma poche precipitazioni ancora variabilità e magari qualche locale più vasco specie sulla zona del levante ligure nel dettaglio comunque imperiese nuvolosità regolare tra sole e dubbi sparse e i venti saranno un po vivaci con mari mossi temperature in flessione rispetto ai giorni precedenti savona anche qui situazione di variabilità ma basso rischio di piogge venti di tramontana raffiche anche oltre i 50 60 chilometri orari e mari molto mossi o localmente agitati al lago provincia di genova giornata ventosa anche a genova raffiche di 50 chilometri orari per quanto riguarda il vento da nord e giornata di variabilità non escludiamo qualche sporadico piovasco in mattinata e tiguglio giornata fredda temperature che caleranno anche qui rispetto ai giorni precedenti difatti le massime anche sulla costa rimarranno sotto i 12 13 gradi e poi lo spezzino variabilità non escludiamo qualche locale piovasco nella prima parte del giorno comunque appunto nulla di trascendentale con clima freddo per venti che ruoteranno di tramontana situazione per la giornata di lunedì quando ritroveremo ancora tanta nuvolosità regolare sulla regione non escludiamo sporadici piovaschi però appunto in un contesto di variabilità temperature invernali minime che scenderanno anche sotto gli 8 gradi sulle zone di mare massime contenute tra 10 e 14 gradi non di più dettagli maggiori approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo